e siamo live, siamo live, siamo live, siamo live non c'è ovviamente ancora nessuno intanto io sistemo le ultime cose se sentite del rumore è la buona e amata Lucia che sta facendo dei dolcetti assolutamente sfiziosi per questa sera quindi per questa volta è più che perdonata per il rumore che sta facendo stavo cercando una roba che non mi ricordo vediamo, 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 vediamo eccolo qua, perfetto la miseria, già, beh Lucrezia c'è già Martina c'è già, ciao Edward, ciao a tutti intanto che aspettiamo qualche minuto ovviamente come as usual, no? per collegarci tutti quanti in modo che facciamo sentire siamo live, oggi siamo live buonasera Lucia dall'altra stanza buonasera, ciao Matilde grande, io stasera berrò molto perché ho la gola secca, non so perché quindi chi saranno contenti i nostri amici su Youtube che al solito ogni due commenti no scatate, ogni cinque commenti tre sono sul quanto bevo grazie, mi fa piacere che siate tutti preoccupati per la mia salute e niente, oggi parliamo di Salvatore Parolisi ciao Martino, un saluto al volo va bene, dai tanto non ti perdi una live irripetibile come si dice, su Salvatore Parolisi quindi poi settimana prossima ci sarà il nuovo caso che ho detto che avrei studiato, non ho studiato un cazzo ve lo dico sinceramente ma non sono stato tanto bene e quindi mi sono un po' rilassato e anche domani volevo rilassarmi per tornare poi belli carichi Zap che scrive cose Zap penso solo a Twitch mi fa molto piacere questa cosa ciao Alessandra Corcelli non mi ricordo la tua foto non so se è la prima live a cui partecipi o no comunque benvenuta volevo ricordare a tutti che la nostra carissima Lucrezia ieri ha pubblicato una sua canzone io non ho messo io ho detto che avrei messo il link in descrizione ma non l'ho messo Zap se per piacere puoi linkare qua la canzone di Lucrezia ci fai un piacere e niente andate ad ascoltarla è una bomba ieri ho fatto anche una live su come si dice su Instagram la canzone si chiama Peace of Mind e appunto vi consiglio e vi invito anche caldamente ad andare a sentirla e mando inizi su un nuovo caso no non l'ho ancora deciso in realtà no sono quasi sicuro che farò un caso devo ancora organizzarlo bene ciao Filippo ciao Giulia bambi Lucrezia mi hanno già salutata dov'è Sofia? non c'è Sofia perché Francesco ha detto che non c'è che già è molto grave ma ci c'è non è che so ho altre cose perché cazzo c'è da fare peraltro volevamo comunicarvi che gli Zap abbiamo giocato a Playstation fino all'Xbox prima io ho un anno che non giocavo all'Xbox ho attaccato all'Xbox gli Zap ci siamo divertiti molto abbiamo anche comprato un giochino nuovo che sto scaricando questo lo dico a Zap tanto chi se ne frega i Zap sono al quarto giga su 84 quindi stiamo andando fortissimi ciao nemica palla cura se ti ammala noi restiamo senza crimine e andiamo fuori di test no no non mi ammalo tanto sono in casa sono l'unico che si ammala quando prima ero sempre fuori facevo sette lavori eh stavo benissimo adesso sono stato in casa una settimana sto malissimo sono pieno di dolori ho sempre fame sono sempre rotto ho già preso sette chili è una tragedia sta sta quarantena tanto se qualcuno di voi vuole a qualche azienda a qualche vuole sponsorizzarci sponsorizzateci no a qualche azienda di detox non so vabbè niente no ultime sono già passati 5 minuti a dire cagate no ultime ciao die fastidio credo sia il tuo primo live sia il tuo primo live benvenuta credo dalla foto e zapp è troppo scemo non il coso di twitch quello l'ho già messo io nella descrizione perché sono avanti lo spotify della canzone di lucrezia scusate ma zappa dei problemi grossi ultima considerazione appunto quindi grande novità di di pen che stiamo un po' ancora siamo nelle fasi embrionari questa novità è l'account twitch che vi invito è in descrizione ad andare a seguire seguiteci che prima arriviamo a un x di follower prima possiamo iniziare appunto a stremmare come si deve e e a farci vedere ci potete appunto poi supportare con una donazione anche adesso potete supportarci con una donazione con un'iscrizione e chiaramente tutti i proventi li spenderemo in alcol no li spenderemo per migliorare l'attrezzatura e per fare delle live sempre più convincenti in modo che possiate vedere tutti i punti neri che ho sul naso con una red 8k da 40.000 euro va bene quindi fate una donazione lasciateci una recensione su apple podcast a tutti e tre i nostri podcast mi raccomando positiva e perché se no che cazzo di senso lasciarla e niente iniziamo con parolisi magari domani sera se non se se call of duty non ha ancora finito di di installare potremmo fare una live di di per religione vediamo allora partiamo da salvatore parolisi e il delitto di melagnarea delitto che decido di fare e di trattare in una calda vacanza ligure di agosto e mi sono ritrovato un pochettino appunto davanti a un bivio nel senso che avevo affrontato i casi che mi interessavano di più no quelli che diciamo quelli su cui non dovevo pensare troppo perché sapevo che avrei affrontato più o meno questi casi in rapida successione come vi ho sempre detto non era così scontato che di pen crimini continuasse no cioè nel senso che l'idea appunto era fare qualche caso e poi in realtà grazie al successo che ho avuto a come si dice tutti voi che siete connessi ad ascoltarci mi sono dovuto trovare che è quello che sto facendo poi adesso mi sono dovuto trovare dei nuovi crimini è un crimine di cui avevo visto un documentario anni fa su sky che comunque aveva sempre un pochettino acceso la mia fantasia era quello di Salvatore Parolisi appunto l'omicidio di sua moglie Melania Rea caso che come molti casi trattati da di pen crimini sembra scontatissimo sembra ovvio ok c'è un movente fortissimo di cui adesso parleremo c'è una possibilità una dinamica più o meno chiara ma mancano degli elementi che invece ci si aspetterebbe di trovare manca completamente va bene un'arma del delitto manca una ricostruzione certa manca ci sono delle incongruenze no? no? c'è la bambina presente tutta una serie di cose che abbiamo analizzato nel podcast secondo me interessanti e vi dico che a mio parere è stato dopo Meredith il il caso che mi è piaciuto di più trattare non so perché esattamente nel senso che il mio caso preferito dopo Meredith è il caso di Yara ve l'ho sempre detto è il caso che mi appassiona è il caso che quando esce una nuova notizia io sono sempre lì a a guardare a leggere è un caso che riapriremo questa è una novità che vi posso dare ormai per assodato ma siccome ho trovato una serie di altri documenti sia pro bossetti sia contro bossetti sto ho bisogno di un po' di tempo per analizzarli ma vi prometto che da lunedì mi ce li metto sotto sia con un nuovo caso che anche poi proprio nel tempo libero la notte con bossetti e quindi penso che dopo il prossimo caso ci sarà un Yara 2 ok questo ve lo posso già anticipare perché è un caso il caso di bossetti gigante è il caso di Yara gigantesco ma per quanto sia un caso gigantesco in realtà non c'è poi moltissimo di cui parlare nel senso che una volta analizzati di quei due o tre elementi le cellule telefoniche le come si dice l'alibi che manca e le ricerche pedopornografiche poi si parla del DNA e poi è finita lì nel senso che non ci sono testimoni non ci sono cose ci sono delle discrepanti cioè c'è poco materiale diciamo così mentre gli altri casi per esempio il caso parodisi c'è molto materiale perché effettivamente ci sono tutta una serie di altre piste di alternative di incongruenze che mi hanno molto colpito di questo caso per fare una piccola ricostruzione per chi magari non l'ha sentito innanzitutto vi invito ad andare a sentirlo ad ascoltarlo il caso parolisi è stato non mi vergogno minimamente a dirlo il caso meno seguito su di Ben Grimini la ripeto non è una vergogna nella maniera più assoluta nel senso che lo riporterai subito perché a me è piaciuto tantissimo mi sono divertito tantissimo che poi è quello che conta perché di certo non lo facciamo per avere un successo di pubblico clamoroso perché nel senso sta andando benissimo ma non non siamo e non saremo mai temo un muschio selvaggio e e quindi lo facciamo chiaramente per divertirci non è andato malissimo però non posso dire che sia andato particolarmente bene ma in realtà è un caso secondo me come ho già detto molto interessante e molto molto da di Ben Grimini cioè cosa voglio dire innanzitutto ciao Bruno grandissimo ciao a tutti Bruno è un po' che non ti vedevamo in live quindi sono contento che tu sia tornato spero che spero appunto che tu stia bene e che vada tutto bene e volevo appunto farvi un recap velocissimo di quanto accaduto è il 2011 e il 18 aprile siamo appunto a oddio ho un vuoto dove abitavano Somma Vesuviana no oddio ho un vuoto clamoroso di dove oddio dove stavano non mi ricordo vabbè non è importante erano in centro Italia però erano vicino al Colle San Marco ecco e ho un vuoto clamoroso io non me le riprovo perché in realtà me le ricordo abbastanza bene però poi durante la live sono sempre pieno di vuoti clamorosi sulle cose più banali però va bene così almeno è il bello della diretta Ascoli si era vicino ad Ascoli Piceno comunque non il luogo non è poi fondamentale e ha mai fatto cambiamenti ah grazie bevo non mi fa piacere e una famiglia composta quindi da Salvatore Parolisi Melania Rea e la piccola Vittoria vanno a trascorrere un normale pomeriggio questo secondo la dichiarazione di Parolisi che è colui che fa scattare l'allarme a Colle San Marco Colle San Marco appunto è questo Colle vicino alla loro abitazione dove appunto sopra c'è questo pianoro questa piccola radura che in realtà poi non è tanto piccola io avevo saltato quella puntata che avrei detto appunto che avevo detto che avrei fatto dove spiegavo meglio come era composta questo pianoro in realtà non era così piccolo però c'erano un campetto da calcio c'erano delle altalene un piccolo chioschetto col bar comunque c'è una serie di attività lui appunto afferma che con la famiglia sono andati lì a un certo punto Melania la moglie dice di andare in bagno dopo un quarto d'ora venti minuti che non si trova lui fa scattare l'allarme partono le ricerche e due giorni Melania verrà ritrovata appunto il 20 aprile quindi due giorni dopo da un'altra parte alle casermette quindi in un bosco che appunto e la coppia conosceva bene perché poi Parolisi ci dirà che siano andati ad appartare in questo luogo quindi in un bosco appunto anche qui con un chiosco in una zona oltretutto molto conosciuta da parte dei militari perché in quella era una zona un bosco dove si svolgevano delle esercitazioni da parte dei militari militari molto interessanti perché appunto Salvatore Parolisi era un militare era l'istruttore delle giovani reclute donne perché dico donne perché con una di loro con Ludovica ebbe appunto una relazione che secondo l'impianto accusatore secondo appunto l'accusa è il movente fondamentale di questo omicidio partono subito le indagini viene ritrovato il corpo che ha una serie di ferite che fanno immaginare subito uno uno staging ok perché ha una svastica sulla coscia mi sembra ha due ha una siringa nel cuore una siringa di fianco no comunque ha una serie di contraffazioni possiamo dire così che sono interessantissime per un motivo non tanto perché appunto il killer e adesso possiamo dire Salvatore Parolisi le abbia fatte quello è abbastanza normale sono interessanti perché da quello che sappiamo sono avvenute post mortem e adesso vi do la ricostruzione ufficiale se fosse stato effettivamente Parolisi dovremmo poi inserire un appunto un ritorno sulla sulla scena del crimine da parte appunto del Parolisi stesso e anche qua si rivela una faccenda piuttosto complicata questo caso appunto mi piace uno dei miei preferiti però vedo che anche appunto Bruno ha detto che è piaciuto molto anche me l'ha scritto anche Filippo me l'ha scritto anche come si dice anche anche Lucrezia me l'aveva scritto perché non è stata condannata a Ludovica Ludovica era un'altra regione e quindi penso che fosse assolutamente ah tu dici per il reato di adulterio perché non siamo più nel 1400 forse penso la versione ufficiale invece è un po' diversa ovvero che la coppia doveva andare effettivamente a Colle San Marco e questo lo sappiamo perché prima di uscire Melania telefona a sua madre e le riferisce appunto di questa di questa gita che avevano programmato secondo gli inquirenti non vanno invece a Colle San Marco perché la piccola Vittoria si addormenta e siccome avevano i minuti abbastanza contati perché poi alle quattro dovevano essere a casa di Sonia un'amica un'amica di di Melania sappiamo no non è come dite né Alessio né Némica dopo ve lo spiego comunque ricordatemelo magari dopo non è né complice né mandante dopo ve lo spiego e cambiano a un certo punto destinazione secondo gli inquirenti perché appunto non vanno più a Colle San Marco ma alle casermette secondo gli inquirenti per consumare un ipotetico rapporto sessuale noi invece avevamo immaginato un litigio o una discussione in macchina che un po' passivo aggressiva per non urlare troppo perché c'era la bambina che dormiva ma per allungare un po' il giro in macchina in modo da tenere comunque la bambina addormentata e poi lei Melania si era dovuta fermare a far la pipì e lui l'aveva aggredita quindi la ricostruzione più o meno è questa ovvero che ciao Marcella sei nuova benvenuta quindi lui la aggredisce alle casermette con 35 coltellate comunque con un omicidio piuttosto anche forte si cambia velocemente questa è la versione ufficiale si cambia velocemente non si sa dove perché lì c'è una fontanella ma non vengono ritrovate tracce di sangue e dopo 35 coltellate immaginiamo che ci siano delle tracce di sangue quindi non ci sono tracce di sangue sulla scena del crimine e cosa voglio dire in uscita cosa voglio dire in uscita che dal dal corpo di Melania vanno via no? non ci sono tracce di sangue già questo è molto interessante secondo me non ci sono se non c'è segni di DNA di parolisi in prossimità delle ferite ma solo sulla bocca gli inquirenti poi si sono lanciati in un ipotetico bacio della morte cosa che mi convince non poco ma pochissimo ma va bene nella fontanella appunto che ce lì vicino non ci sono tracce di sangue anche se gli inquirenti immagino che siano convinti che quello sia stato il luogo in cui lui l'aveva si era pulito in più c'è appunto un cambio di vestiti che fa immaginare che fosse comunque una un delitto premeditato e poi in tutto ciò la bambina non si sveglia né niente e poi guida appunto fino a Colle San Marco e fa questa questa scenetta della moglie che è sparita quando in realtà lui la come si dice sapeva benissimo che era già morta d'altra parte invece avevamo ipotizzato un raptus il che però non fa immaginare necessariamente che lui avesse un cambio pronto no dei vestiti di riserva pronti e dei luoghi dove nascondere scusate delle borse o dei sacchetti dove nascondere l'arma del delitto e vestiti sporchi no quindi avevamo anche provato di questa di questa stranezza cioè dei comportamenti anche qua è un filo ricorrente di pen crimini no perché poi è un filo ricorrente di tutti quegli omicidi che non sono chiari ovvero dei comportamenti illogici ma che fanno parte no dell'irrazionalità dell'omicidio associata a dei comportamenti molto logici e questo ci sta ma dei delitti che sembrano del tutto premeditati da una parte dall'altra invece frutto di un raptus momentaneo quindi anche qua questa stranezza l'avevamo sottolineata la versione ufficiale aveva secondo me dei problemi non perché non possa essere successa come io sono convinto per esempio nel caso di Avetrana che non possa esserci stato Fast and Furious Avetrana Edition perché l'abbiamo provato mille volte quindi non ci voglio ritornare qua invece una versione ufficiale può effettivamente essere successa ma continuo a convincermi poco perché dovrebbero essere successe decine di cose strane lui non viene visto da nessuno torna sulla scena del crimine non viene visto da nessuno nonostante abbia tutta la famiglia che praticamente sta con lui perché nei due giorni tra il 18 pomeriggio e il 20 pomeriggio passano una quarantina di ore circa da quando sparisce a quando viene ritrovata quindi in questa 40 ore lui è circondato da familiari di lei familiari di lui amici poliziotti parenti compagnia e lui trova del tempo per tornare sulla scena del crimine in pieno giorno perché sappiamo che di notte non può essere stato e come si dice per effettuare questo staging staging è anche poi particolarmente complesso in realtà un indizio a fortissimo carico è stata una testimonianza della o meglio adesso poi facciamo un attimo facciamo chiarezza però questa cosa ci tengo a dirla una testimonianza della mamma di Melagnarea che a casa del Parolisi la notte della prima notte della scomparsa quindi arrivano subito a cercare la figlia la prima notte dice che ha sentito Parolisi alzarsi nel cuore della notte a fare una lavatrice e questo vuol dire che appunto agli abiti sporchi di sangue ok innanzitutto io avevo già detto che mi convinceva poco questa testimonianza perché avveniva a distanza di mesi perché era l'unica in quella casa che l'aveva sentito e poi una cosa che forse non ho detto ma che aggiungo adesso Parolisi avrebbe fatto molta meno fatica nella strada che dava dalle case armette a Colle San Marco a trovare un bidone e buttare dentro l'arma del delitto e i vestiti sporchi piuttosto che portarseli a casa con 100 persone alzarsi ai 4 del mattino di notte a fare la lavatrice che mi sembra davvero una forzatura un voler per forza dare quell'indizio in più in realtà gli indizi su Parolisi sono molto pochi e sono molti indizi e sono tutti indizi scusate che vanno a sconfessare la sua versione e come sono formulati sostanzialmente si è cercato di ricostruire tutti i movimenti di chi era effettivamente a Colle San Marco quel giorno quindi tutti i ragazzini che giocavano il custode mica custode tutto quanto perché effettivamente nessuno dice di averlo visto anche qua avevamo analizzato la testimonianza del proprietario del chiosco il signore adesso non mi ricordo come si chiama ma ne avevo parlato lungamente che invece diceva di aver visto un uomo che come si dice corrispondeva più o meno alla descrizione di Parolisi con una donna una bambina e poi di aver visto sostanto un uomo una bambina quindi all'inizio la tesi di Parolisi viene come si dice confermata dal proprietario del come si dice del chiosco il problema è che gli altri ragazzi dicono gli altri ragazzi e le altre persone che sono arrivati in momenti diversi non fanno riferimento a Parolisi questo attenzione a una cosa che era il motivo per cui volevo fare la puntata che il pianoro è piuttosto grande e non è stutto sullo stesso livello no ma era come si dice c'erano dei vari non tutti vedevano come si dice avete presente che c'erano dei vari dislivelli sto parlando di 200 metri di dislivello però non è detto che da un prato vedevo l'altalena o viceversa non so se mi sono spiegato e fatto sta che appunto così rispondo anche a nemica che dice non mi ricordo perché era stata esclusa da testimonianza del proprietario del chiosco in realtà non fu esclusa anzi fu accettata inizialmente in seguito lui la ritrattò perché fu convinto perché lui poi pubblicamente nei giornali disse che era convinto di aver visto quella cosa ma fu convinto a dire che si ricordava era il ricordo di una settimana prima quando erano stati appunto Melania con Parolisi e con con la figlia con altri amici al piano appunto a San Marco e quindi era il ricordo di un altro giorno che lui aveva intrecciato cosa che mi sembra molto poco credibile molto poco credibile così come in realtà e questa è un'altra cosa su cui ho riflettuto ultimamente perché poi mi capita come a tutti ogni tanto di ripensare anche involontariamente ai podcast e alle discussioni che ci piace tanto fare anche se come ben detto mille volte i temi sono un pochettino macabri alla questione dei cani molecolari qua c'è una fortissima questione dei cani molecolari secondo l'accusa Melania Rea non è mai stata quel giorno quindi il 18 aprile non è mai stata a Colle San Marco in realtà i cani molecolari fiutano Melania Rea a Colle San Marco e la fanno andare su quella strada sterrata un po' sterrata non è sbagliato di ghiaia ok che porta al monumento dei caduti la giustificazione degli inquirenti che il cane pergio esattamente la giustificazione degli inquirenti è stata quella di del fatto che fosse già stata lì dieci giorni fa e che quindi i cani sentivano ancora degli odori delle tracce in realtà poi da quello io avevo letto proprio l'intervista al padrone di Pier Giorgio che diceva che i cani molecolari fiutarono le tracce fino a cinque giorni prima non dieci quindi potevano fiutare come si dice le tracce di Melania soltanto se fosse stata dal 13 aprile in poi a Colle San Marco e sappiamo che questo non era possibile se non appunto il 18 come diceva Parolisi quindi c'erano degli elementi molto strani c'era poi la testimonianza dei ciclisti che parlavano di una donna che saliva che saliva stavo organizzando la cena con con Lucia e e quindi ci sono tutti degli elementi strani quali erano invece gli elementi forti che l'hanno portato una condanna all'ergastolo poi scesa a vent'anni priorito abbreviato nei confronti del Parolisi innanzitutto il movente lui nasconde inizialmente una relazione con Ludovica che è una non mi ricordo il cognome Perrone mi pare fosse e nasconde una una relazione con questa giovane cadetta che non era più sua allieva ma è stata sua allieva e lui appunto una relazione clamorosa nel senso che tutti lo sapevano lo sapeva benissimo anche Melania che l'aveva beccato con una sim diversa che era stato un po' un babbacchione perché l'aveva chiamata con la sim che usava con l'amante e lei giustamente fa che cazzo di telefono è bla 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 quindi lui nasconde un affair quindi una relazione clandestina di cui erano tutte conoscenza quindi anche lì non una mente proprio brillantissima quindi abbiamo un movente molto forte l'abbiamo letto anche nei messaggi che avevo letto durante il podcast ovvero dove lui più di una volta diceva all'amante e qua eravamo d'accordo mi sembra nel dire che sembrava volesse dare un po' lo zuccherino all'amante il contentino che si dà quando diceva sì sì ma adesso la lascio adesso io e te andremo a vivere insieme per sempre ti amo sono innamorato di te non l'amo più non mi è finita bla 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 in realtà poi lui non aveva mai fatto nessun passo né ufficiale né ufficioso appunto nella direzione di una separazione anzi ok e quindi c'era questo questo problema secondo me che io penso di aver evidenziato nel podcast o almeno di aver tentato di evidenziare nel podcast ovvero che c'è un movente molto forte ovvero un amante ma un movente vi do vi do il peperino vi do lo stuzzichino per il prossimo caso lo volete lo stuzzichino per il prossimo caso intanto bevo perché qua potrei mi è venuto in mente potrei darvi uno stuzzichino per il prossimo caso sto aspettando che arrivi siccome c'è un po' di vita dai ok non come nel prossimo caso dove invece sì che un'altra relazione può essere stato effettivamente il movente fortissimo per quello che è successo e con questo ho già detto troppo anche in realtà dai messaggi che come si dice che abbiamo che abbiamo a disposizione si vede come lui in realtà cercasse un po' di intortarsi di intortarsi Ludovica qual è però cioè come sono arrivati alla conclusione che in realtà quello è stato è stato il movente fondamentale dal fatto che era periodo pasquale la famiglia di Ludovica aveva prenotato due camere d'albergo a Capri in un hotel e avevano non ho detto che non avevano scelto ma ho scelto nel senso che voglio fare un quel caso devo soltanto capire se c'è il materiale c'è tutto il materiale che mi serve per affrontarlo bene ma penso di sì perché la sentenza ho già visto che ma quale caso è qua è un indizio poi ve lo sconfirete in settimana penso avevano prenotato questa doppia camera perché doveva essere la settimana della presentazione ufficiale presentazione ufficiale che era stata più volte rimandata con degli artifici geniali dei rimandi geniali da parte di Parolisi ma questa volta era stato messo di fronte a un ultimatum 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 mi è da ridere per i messaggi di Lucrezia ultimatum chiaro cioè o questa volta ti presenti e ti presento i miei oppure tra noi è finita secondo gli inquirenti quest'ultimatum hanno fatto entrare in un com'è che l'avevano chiamato in un imbuto psicologico meraviglioso in un imbuto psicologico vedete che mi ricordo tutto il Parolisi che appunto vedeva la realtà come un puntino in fondo all'imbuto e per levarsi da questa situazione appiccicosa questa situazione da cui non riusciva appunto a venire fuori decide di uccidere la moglie che in realtà avevamo come si può dire stabilito insieme che non era la cosa più logica da fare perché poteva lasciarla la moglie è vero che lui lo riscrivevano gli amici e i familiari come un pochettino tirchio e quindi l'idea di dover pagare gli alimenti a Melania non è che lo facesse impazzire però in realtà c'erano altri modi non si poteva fare mille modi migliori che passare vent'anni in carcere credo io ecco quindi sicuramente sicuramente non è un movente così forte in realtà io avevo dato un'opinione su questo movente dicevo che sicuramente poteva essere considerato un movente a me sembrava semplicemente lui che aveva un amante lo sapevano tutti anche se fosse anche innamorato di quest'amante non dico che fosse un amante cioè che lui non avesse sentimenti che non provasse sentimenti nei confronti di Ludovica ma che in realtà lui fosse un po' piacione fosse uno un po' un po' narciso e che quindi gli piaceva avere la mogliettina a casa e chiesa tra l'altro Melania era una bellissima donna gli piaceva avere una donna lui diceva che quando la portava in giro faceva anche la sua scena di cui secondo me era anche innamorato aveva una bellissima bambina con cui aveva un bellissimo rapporto gli piaceva aveva anche l'amante perché aveva lui ha un po' quello charme un po' latino un po' mascalzone un po' brighella quindi gli piaceva questa cosa voleva tenere due piedi in due scarpe come tutti gli uomini che hanno superato l'età mentale dei quattro anni sanno che però non puoi avere tutto nella vita e quindi a un certo punto la vita ti fa pagare il conto gli ha fatto pagare il conto lui al posto che pagare il conto semplice cioè dire non c'era l'amante di prendersi l'ennesimo cartesone della moglie decide di come si dice decide di ammazzare la moglie ecco io sull'ultimo passaggio ho qualche dubbio io ho detto che secondo me il più probabile l'omicida più probabile rimane lui ma poi mi ero lanciato in un'ultima puntata nell'ultima puntata del podcast in un'ultima puntata che mi ricordo era piaciuta tantissimo mi ricordo che i commenti erano molto positivi la cosa mi aveva gasato un sacco perché non so se chi si ricorda ma questo podcast cioè questo caso non è che era iniziato benissimo io mi ricordo la prima puntata di questo podcast che male 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 nel senso che forse non l'ho mai risentita però mi ricordo che i commenti c'era proprio molta come si dice molto scetticismo infatti mi ricordo avevo scritto a zap mi sa che ho sbagliato caso ho fatto un casino devo cioè nel senso adesso lo faccio velocemente poi cerco di andare su un altro caso perché mi sa che stavolta ho toppato in realtà secondo me il caso è stato trattato bene ed è stato uno dei più interessanti e nell'ultima puntata io tento ah in tutto ciò scusate io non ho fatto minimamente riferimento alle cellule telefoniche al DNA ai cani molecolari e compagnia però c'è c'è un mondo dietro questo caso ripeto che è trattato nel podcast Bruno dice scusate ma a sto punto era più logico uccidere l'amante l'amante aveva un'altra regione loro non si arrivano da tre mesi con come si dice con Ludovica non si vedevano da mesi in realtà la cosa più logica era lasciare l'amante e provarsene un'altra se proprio doveva avere cioè io quello che mi sono provando a mettermi nella testa di Parolisi per quanto affezionato fosse a Ludovica era chiaro che la vedeva come un'amante no? perché non la vedeva da mesi perché si vedeva anche da come scriveva da come le scriveva che la trattava come una bambina un po' scema no? perché evidentemente aveva quel rapporto scusate con lei e quindi mi sono sempre chiesto il perché semplicemente non l'abbia lasciata per trovarsene un'altra no? mi sembra la cosa più logica da fare probabilmente mi ero lanciato in quest'ultima ricostruzione e mi prende ancora quattro minuti dove dico quello che un'altra ricostruzione è possibile e poi appunto leggo le vostre perché ho visto che adesso Nemica ha scritto ha citato un pezzo di un'altra persona e cosa avevo detto? che avevo trovato su internet questa ricostruzione che mi convinceva devo dire nel senso che andava a rispondere a tutta una serie di problemi ovvero Melania quando scopre un annetto prima mi sembra un anno prima che Salvatore ha la passione no? per come si dice gli piace gli piace andare in letti che non siano necessariamente il suo decide di seguirlo lo segue questo lo sappiamo con con certezza lo segue e va e sappiamo perché avevo citato anche un pezzo che era scritto nella sentenza di primo grado viene a conoscenza di alcuni segreti legati alla caserma ora noi dobbiamo sapere che in quella caserma e sono anche inchieste extra parolisi cioè sono state le inchieste nella caserma di Ascoli erano venute fuori tutta una serie di stranezze festini a base di cocaina con delle persone adesso io non so mai se persone transessuali donne uomini non so comunque con con delle persone transessuali con delle prostitute con comunque quindi festini orge comunque cose che in una caserma in linea di massima non dovrebbero succedere penso io io adesso non sono mai stato in una caserma e quindi non so cosa succede ma erano uscite tutta una serie di cose un po' losche un po' brutte diciamo sappiamo anzi si è ipotizzato ma su basandosi su cosa sul fatto che a un certo punto melania si era confidata con una sua amica amica che non ha mai parlato troppo o che probabilmente non sapeva tutta la questione dicendo appunto che aveva scoperto cosa aveva scoperto delle cose un pochettino losche e quindi ci avevamo immaginati un un'alternativa e come funzionava questa alternativa funzionava più o meno così la famiglia si reca al al pianoro di colle san marco scusate un secondo devo mandare un messaggio vitale poi giuro che scusate ma se no non cade ok si recano lì non tanto per far giocare la bambina quanto perché melania doveva avere un incontro con delle persone probabilmente due donne e questo ce lo dicono i ciclisti legati a quella caserma ok questo perché mi convince come possibile spiegazione perché non aveva senso nella mia testa il fatto che uscissero alle due e mezza per andare in un posto a venti minuti ok per far giocare la bambina quando poi dovevano essere alle quattro di nuovo in paese in un giorno oltretutto non bellissimo come giornata e in un giorno ci dice il proprietario del chiosco piuttosto freddo perché Parolisi era in pantaloncini corti ed è stata la cosa che lui ha detto subito ha detto io ho notato Parolisi perché con questo freddo c'erano 11 gradi mi sembra che l'ho andato anche a controllare c'erano 11 gradi e questo è in pantaloncini corti quindi notiamo cioè se nevica e vede uno in infradito cazzo mi cade l'occhio e dico ma questo qua non ha tutti i venerdì no c'è qualcosa che non va quindi ok scusate ma ho un raffreddore allucinante devo starlo a tir scusate ma le condizioni di salute sono precari quindi mi sembrava più logico questo cioè che il motivo per andare là fosse cosa un motivo extra altalena ma un incontro chiarificatore almeno sulla carta di Melania con dei membri della della caserma grazie e e quindi cosa succede notate che vi porto puntate live anche con praticamente cioè sapete che voi un uomo quando ha un po' di raffreddore naso chiuso è morto io praticamente sono sono uscito dal letto soltanto per fare questa live e quindi l'idea di questo incontro mi piace moltissimo immaginiamo quindi la scena stanno giocando alle altalene a un certo punto Melania dice sono le tre circa devo andare al monumento dei caduti che dall'altalene ci vogliono circa cinque minuti a piedi neanche perché lì c'è uno spiazzo il monumento dei caduti sono delle lapidi dei caduti sono su una curva su una statale c'è uno spiazzo piuttosto grande dove ci stanno tre quattro macchine e quindi di solito si fermano le macchine e è un ottimo punto per darsi appuntamento è anche più verosimile che siano potessero stare lì perché perché cosa succede succede che la cella telefonica di una delle ultime celle telefoniche di Melania aggancia un punto che è agganciabile dai monumenti dei caduti quindi è possibile che fosse lì molto più che alle casermette detto questo che questo poi è stato motivo di dibattito in aula e hanno avuto ragione appunto l'accusa quindi non sono nessuno per smentirli ci sono dei cicloturisti che dicono sono due diversi in due momenti diversi che dicono di aver visto una macchina una berlina mi sembra con due donne che litigavano che parlavano in modo un po' animato un po' concitato con una terza donna che corrispondeva più o meno alla descrizione di Melania ovviamente da qua in poi dobbiamo immaginare e io l'avevo ricostritta così a un certo punto queste due donne che magari una terza persona alla guida dell'auto rapiscono quindi buttano in macchina Melania e scappano la portano secondo me prima non subito alle casermette la tengono da un'altra parte perché il cellulare di Melania viene rintracciato dal numero di emergenze europee mi pare che fosse le coordinate GPS vengono trovate a tre chilometri da il luogo in cui poi verrà ritrovata morta sempre in un bosco e secondo me è lì che viene uccisa per quello che non si trova nessuna traccia dall'altra parte è lì che viene uccisa o comunque è lì che viene tenuta per qualche tempo e poi in seguito portata alle casermette il comportamento di Parolisi sarebbe allo stesso tempo spiegabile perché per andare a prendere un caffè per andare in bagno ci vogliono 10 minuti più o meno e lui è solo dopo mezz'ora che inizia a preoccuparsi perché dopo mezz'ora perché sapeva che stava parlando e che aveva un incontro con una con delle persone quindi non si dà non si pena troppo di dire no vado a controllare che effettivamente un quarto da venti minuti che non torna è strano ma la chiama soltanto dopo una mezz'ora circa perché allora lì sì che poteva avere senso questa è la mia ricostruzione una mia ricostruzione io non è quella in cui credo ma credo che sia anche questa possibile tanto quanto quella dove appunto Parolisi è colpevole ricostruzione la seconda che ha una serie di prove fino al rapimento di di Melania poi chiaramente ha zero prove ma spiegherebbe l'assenza totale del DNA di Parolisi sul corpo di Melania scrivetemi voi cosa ne pensate intanto volevo leggere una cosa che ha scritto Nemica che dice Carmelo Lavorino che di professione fa il criminologo beato lui dice se è stato davvero Parolisi perché non è mai stata trovata nemmeno una sua traccia sulla scena del crimine esatto la mia ipotesi è stata è che sia stata una donna ad uccidere Melania facendo cadere le accuse sul marito della vittima spiega lo specialista richiamando come proprio un'impronta insanguinata rinvenuta sulla scena del delitto è mai identificata sì che abbiamo di cui abbiamo parlato nel podcast di questa impronta quindi ovviamente questo è un è un recap quindi non ho la presunzione di rifare tutto il podcast in 45 minuti e sì assolutamente c'è questa ipotesi sappiamo di sicuro che non è stata Ludovica perché appunto era un'altra regione quindi non poteva essere stata Ludovica quindi non non si vede no ma se Ludovica si è teletrasportata con no col pensiero no no non è stata Ludovica ci erano effettivamente delle impronti femminili spiegabili secondo me come vi ho spiegato io ovvero che delle cadette avevano avuto questa discussione poi magari sfociata in qualcosa in più magari Melania le ha ricattate piuttosto che ha detto che avrebbe parlato di quanto avveniva nel in quella caserma che era pronta non lo so adesso stiamo chiaramente ipotizzando però appunto questo è va bene io sì la testimonianza dei ciclisti però anche lì è una testimonianza strana c'erano delle cose un po' così Bruno dice vi invito a vedere l'intervista ai cadetti tutti che non possono parlare che non si ricordano esatto questo anche io l'avevo vista non mi ricordo forse YouTube l'avevo vista non mi ricordo mi aveva fatto tutti che appunto ah sì quando sapevamo che molti erano passati in zona ritrovamento cadavere qualche ora prima quindi il cadavere sarebbe ah e non vi ho detto scusate con questo concludo un altro punto secondo me fondamentale cioè come viene ritrovato il cadavere il cadavere viene ritrovato attraverso una chiamata anonima di una persona tranquillissima che dice sì stavo passandoli lì col cane ho visto il cadavere non lascia in generalità non lascia niente molto strana anche comunque andate a sentire il podcast fidatevi perché chi non l'ha sentito merita davvero tanto va bene fanciulli spero di avervi rinfrescato un po' la memoria con questo caso e spero di avervi incuriosito ad andare a ascoltarlo spero anche di avervi dato un indizio su il prossimo caso che chi potrebbe no non ho idea no 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 non ho non ho un nome non ho un nome domani sera mi sembra ci siano speciali su canale 9 su melania rea allora guardiamocelo e poi commentiamo su telegram dove vi invito a unirvi oggi devo come si dice devo anche farvi complimenti devo ringraziarvi perché siamo arrivati a 400 su il nostro gruppo di telegram dedicato ai crimini quindi grazie mille mi sembra ieri che eravamo in 6 e oggi siamo già in 400 quindi davvero grazie mille buona serata a tutti in settimana partirà il nuovo caso credo la Columbine la possiamo finire più avanti visto che adesso sono in casa quindi abbiamo un pochettino più di tempo io ho finito la voce come noterete ma sono tutto ancora un po' intasato e quindi in settimana partiva il nuovo caso spero vi piaccia fateci avere un feedback su come è andata questa puntata e su questo caso sui nostri canali social iscrivetevi a Twitch perché tra poco quando raggiungiamo il numero minimo partiremo anche con delle live su Twitch ciao ragazzi buona serata buon sabato sera state in casa state lontani fate i bravi e dormite tantissimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti